Dovrà scontare una condanna a due anni e otto mesi di reclusione, il 24enne prelevato dalla sua casa di Omenia dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Verbania. Dopo quattro anni dall'episodio è arrivata la sentenza per il giovane condannato per rapina. Era il marzo del 2020 quando una baby gang, composta da sei ragazzini, tutti residenti in provincia, aggredì e rapinò un coetaneo in via Muller a Intra, strappandogli il telefono cellulare e alcuni molili in oro. Le indagini partirono immediatamente. Dopo solo quattro giorni i carabinieri avevano già identificato tutti e sei i componenti della banda. Si trattava di cinque minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. L'unico maggiorenne e per questo l'unico giudicato come adulto dal tribunale di Verbania era l'allora ventenne di Omenia. Dopo le formalità di rito il giovane è stato portato in carcere a Verbania dove dovrà scontare la sua pena.